Mi devo fare un anno di carcere. Lasciandoci alla metro, la salutai con un bacio. Può darsi che non ti possa telefonare tutti i giorni. Elena restò zitta per qualche secondo, poi domandò perché. Ti telefonerò ogni volta che posso. Mi voltai e feci qualche passo. Ma perché? Dove devi andare? La sentì mormorare. Mi devo fare un anno di carcere. Al bambino e ai vicini di casa devi dire che sono dovuto andare in Persia, improvvisamente, per lavoro. Ma quale lavoro? Tu non hai mai lavorato, disse Elena risentita. Mi girai di scatto e andai a segno da una distanza di tre metri. Il tuo guaio, Elena, è che sai offendere ma non capire. Io ho sempre lavorato per mantenere al meglio te e il nostro figlio. Che vuoi dire? Voglio dire che adesso vado in carcere perché ho sempre cercato di soddisfare, spesso e legalmente, i tuoi desideri, il tuo corpo astrale, che ha vibrato sempre fortemente e mi ha chiesto di guadagnare sempre di più. Volevo vedere l'espressione della madre di mio figlio, ma la strategia della lite mi impedì di voltarmi a guardarla. Com'è possibile fuggire dai desideri quando sono giovane e bella e ho fatto lo sbaglio di fare un figlio con te, reagì Elena. Non è possibile, dissi, perché l'abbandono dei tuoi desideri lo potresti raggiungere solo comprendendo perché sei incarnata come Elena e dai quei desideri. Ma tu sei ancora molto lontana da questa comprensione.